Suoni quotidiani, presenta Quindi, l'area posizionati Chi ne hai togliamo? C'è, sei tu? Io non ho parlato grande Ciao Ciao E qual è il tuo nome? Mi chiamo Anna Mi chiamo Ilo e ho 18 anni Mi chiamano Patti, sono una transessuale Mi chiamo Nicoletta e ho 19 anni Mi chiamo Rihanna, piacere Mi chiamo Ilaria e ho 18 anni Io sono Daniele, ho 42 anni Mi chiamo Yelena, ho 19 anni Who we are We don't give a shit We don't cry Nimi, nimi Somebody else do it La remotissima possibilità Mi chiamo Nimi Mi gotta solle Si No Non Si Non Mi chiamo Grazie a tutti.